Mi servono crediti? FIFA 15 Coinsmart Troverete il link e il codice coupon qui in descrizione Sono veloci, affidabili ed economici Yepp ragazzi, bentornati Sono Giovi HD Sport Benvenuti nel video contest Di fine anno Fine anno 2014 Siamo arrivati alla fine del 2014 Presto inizierà se non è già iniziato il 2015 Questo è il video contest per 100.000 crediti FUT 15 PlayStation 3 PlayStation 4 Ci sono delle regole da rispettare E sono le seguenti Se volete vincere Essere iscritti al canale Mettere mi piace al video E sulla pagina Facebook Condividere questo video in due gruppi FIFA Commentare con un numero da 1 a 150 Al vincitore verrà chiesto lo screen Quindi una prova che avete condiviso E avete messo mi piace eccetera eccetera Il contest termina il 6 gennaio 2015 Quindi termina con l'avvenire dell'epifania Dunque ragazzi vi ripeto Sono 100.000 crediti in palio Per PlayStation 3 PlayStation 4 Un solo vincitore Bisogna essere iscritti al canale Mettere mi piace al video E sulla pagina Facebook Condividere questo video in due gruppi FIFA Ve lo ricordo In due gruppi FIFA Su Facebook Su Twitter Dove volete Commentare con un numero da 1 a 150 E al vincitore verrà chiesto lo screen Il contest termina il 6 gennaio Spero vi sia tutto chiaro Se avete dubbi Contattatemi Commentate qui sotto Seguite le regole E vi raccomando Buona fortuna